I campioni, quelli veri, non si giudicano solo per il risultato sportivo, ma anche per quello che fanno fuori da un campo di calcio o di basket, oppure come in questo caso Giuda Ring. Carmela Meldognaco, pluricampionessa campana e della Nazionale Azzurra, si è resa protagonista di una rodevole iniziativa, decidendo di mettere all'asta tutti i suoi trofei e le divise ufficiali. Il ricavato dell'iniziativa messa in atto dalla Pugilessa di Montoro sarà devoluto all'Associazione Piccole Gioie, un'associazione che si occupa di bambini autistici o con patologie tumorali. La Dognaco, che fa parte dello staff, spera di poter dare il proprio contributo con un gesto importante. Il ricavato di tale evento, infatti, servirà a contribuire alle visite dei piccoli componenti dell'associazione che dovranno svolgere in giro per l'Italia. Mel è pronta a vincere un incontro molto importante ed aiutare i piccoli amici e fans a sconfiggere l'avversario.